Musica E' martedì 9 luglio, buongiorno dalla redazione di Tele Molise, la cronaca in apertura della prima edizione del nostro telegiornale con una vicenda singolare, evade da una comunità in Alto Molise perché preferisce tornare in carcere e la storia di un livornese di 42 anni che è scappato da una struttura dove era in libertà vigilata per chiedere di tornare dietro le sbarre e il tribunale di Isernia lo ha accontentato. I dettagli con Davide Gambardella Quando i carabinieri l'hanno individuato in strada ha confessato che in quella comunità in Alto Molise non voleva più starci meglio il carcere insomma che quelle stanze dove non si sentiva più a suo agio E' così che si è giustificato ai militari un uomo di 42 anni originario di Livorno, scappato sabato scorso dalla comunità dove era stato assegnato dal mese di gennaio avrebbe dovuto scontare un anno di libertà vigilata per alcuni fatti contestati in passato e il giudice lo associò ad una cooperativa Alto Molisana Sabato in un momento di sconforto la decisione di evadere per chiedere di tornare di nuovo in carcere non riusciva più a tollerare la vita di comunità avrebbe detto ai carabinieri preferendo invece la vita dietro le sbarre Al momento del fermo il 42enne ha opposto resistenza perché non voleva più tornare da dove era scappato e così il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Isernia, Micaela Sapio, lo ha in un certo senso accontentato convalidando l'arresto e associandolo alla casa circondariale di Isernia Lui riteneva di non trovarsi bene nella comunità di cui ho parlato e quindi si è allontanato indebitamente non potendo farlo e si stava recando sabato pomeriggio appunto quando poi è stato arrestato presso i carabinieri per chiedere di poter andare in carcere Lui è stato intercettato dai carabinieri, è rappresentato la sua volontà di andare in carcere dove era stato in tempi passati e in queste occasioni i carabinieri gli riferivano che non poteva andare in carcere in realtà perché dovevano riaccompagnarlo in comunità Da lì è nato chiaramente un alterco sulle diverse opinioni che avevano e quindi poi si è arrivati all'arresto per resistenza pubblico ufficiale e di conseguenza il mio assistito sostanzialmente ha raggiunto lo scopo E' stato accontentato? E' stato arrestato, sì, quindi portato presso il carcere San Leonardo e oggi abbiamo avuto la convalida dell'arresto ovviamente e adesso aspettiamo la misura che il giudice deciderà in ordine alla fattispecie di cui stiamo parlando Seppur con molta difficoltà per la professione che svolgo non ho potuto che rappresentare quella che era la volontà del mio assistito quella di andare in carcere Adesso invece parliamo dell'Università del Molise perché da qualche giorno sono partite le iscrizioni per il prossimo anno accademico Ospite al Tg di Telemolise il Rettore Luca Brunese ha annunciato una serie di novità e il via libera definitivo alla realizzazione di un nuovo edificio dedicato alla ricerca e al nostro servizio Il periodo in arrivo è quello delle vacanze ma all'Università del Molise di fatto il nuovo anno accademico è già cominciato dal primo luglio via alle iscrizioni con l'obiettivo di confermare il trend positivo dello scorso anno Il Rettore Luca Brunese ne ha parlato ospite in studio al nostro Tg Quest'anno la nostra offerta formativa è rimasta molto grande L'anno scorso abbiamo portato i sette nuovi corsi di laurea ci hanno dato grande soddisfazione più 11% di immatricolazione Lo sforzo di quest'anno naturalmente è nella direzione di consolidare quel grande risultato dello scorso anno Abbiamo anche un corso nuovo Corso di laurea magistrale in fisioterapia sempre al numero chiuso La fidida della fisioterapia ci sta dando grande soddisfazione ed ecco perché abbiamo puntato anche su questo elemento Per il prossimo anno l'Università del Molise si è data alcune priorità Vogliamo rafforzare quello che è uno dei nostri punti di forza che è il rapporto con la nostra comunità studentesca Noi siamo convinti che nella nostra università si studi bene che i ragazzi stiano bene quindi su input degli studenti quest'anno viene realizzata una nuova area break con un nuovo punto di ristoro anche in un punto molto visibile all'interno dell'Ateneo che sarà aperto anche naturalmente all'esterno quindi una grande novità e saranno potenziati e modernati tutti i servizi della biblioteca sia in termini di orare di apertura sia anche di fruibilità del servizio della biblioteca Nell'intervista a Telemolise Brunese ha infine annunciato una novità di rilievo c'è il via libera definitivo alla realizzazione di un nuovo edificio Finalmente si è concluso l'iter giudiziario del bando dell'Agenzia di coesione che ha visto l'Università vincere naturalmente l'ultimo ricorso e quindi partiranno i lavori per il nuovo edificio della ricerca grandissima infrastruttura di ricerca il finanziamento è di 28 milioni di euro ai quali si aggiungeranno altri 2 milioni di euro per 10 anni per il potenziamento di questa struttura creiamo una nuova grande infrastruttura di ricerca in Molise l'Università naturalmente la gestirà aperta a tutti naturalmente i partner come sempre però questo è un grande punto di novità per il Molise non soltanto in termini di ricerca ma anche del volano che questo significherà per le aziende che parteciperanno al progetto Bene, ed è tutto per la prima edizione del nostro telegiornale adesso la rassegna stampa Partiamo come sempre dal web dal nostro giornale della Molise che parla in apertura del lutto che ha colpito il mondo della politica con la scomparsa di Vincenzo Bizzarro ex consigliere regionale amministratore a Isernia stroncato da un malore c'è questa notizia la trovate sul giornale del Molise Su primo numero invece c'è un approfondimento sui temi ambientali allarme del WWF l'87% del Mediterraneo è inquinato concentrazione di microplastiche altissima i dati in occasione della giornata internazionale del mar Mediterraneo Da primo numero sul quotidiano una notizia di cronaca ladro d'auto in fuga sulla statale 16 braccato e arrestato dai carabinieri 45 anni in trasferta da Foggia aveva rubato una panda stava rientrando alla base questi i siti web adesso andiamo invece sulla carta stampata con primo piano Molise e qui in apertura troviamo le vicende del comune di Campobasso con la notizia che ha dominato gli ultimi due giorni quella del ricorso del centro-sinistra l'anatra Zoppa non convince il centro-sinistra pronto il ricorso gli avvocati stanno predisponendo gli atti per chiedere al TAR di correggere il risultato elettorale alla sindaca forte dicono va assegnato il premio di maggioranza intanto c'è un'intesa con il cantiere civico ok il punto sulla Dovidio parte un bando per reperire immobili in centro le altre notizie morte sospetta isegna si fa sempre più in largo l'ipotesi dell'omicidio ricordiamo che c'è un fascicolo proprio aperto per omicidio sulla morte di questo uomo trovato senza vita nella sua abitazione poi anche qui la morte di Vincenzo Bizzarro politica in lutto stroncato da un malore scomparso Vincenzo Bizzarro e poi un caso giudiziario ragazzina affidata al padre la madre non è andata così lo dimostrerò la grande foto al centro della pagina è per l'ennesima giornata di disagi sul treno per Roma i semi a Roma innesima odissea treno strapieno passeggeri in piedi è accaduto ieri mattina Gravina punta il dito contro la regione prevedibile dopo i tagli senza criterio fa riferimento alle corse tagliate da qualche giorno notizie di Cronaca anche qui accanto ha petacciato violento scontro tra auto quattro feriti in ospedale tra cui due bambini e poi la storia di Sebastiano Di Rienzo il sarto di Capracotta entra in ribibbia insegna l'arte sartoriale ai detenuti imparare la moda infine c'è una notizia che riguarda il mondo delle cooperative l'importanza strategica delle scuole dell'infanzia regione pronta a investire summit promosso da Conf Cooperative da primo piano andiamo a vedere anche le notizie sportive sotto la testata come sempre in Lupi confermato Pacillo a breve rinnova a Maldonado si avvicina a Sonni d'Angelo si parla anche di Gym Box il Cus Molise brinda il titolo tricolore centrato da Giulia Molinaro e poi il CONI d'Angelo annuncia la ricandidatura al vertice del Comitato Olimpico questo era primo piano Molise adesso invece andiamo sulla stampa nazionale i temi che dominano sono la strage di bambini in Ucraina e poi il post elezioni in Francia cominciamo dal Corriere della Sera la Francia scossa Macron blinda il primo ministro inizia la difficile trattativa sul governo crepe a destra il presidente dice tutelare la stabilità del paese poi la grande foto per le bombe su tutta l'Ucraina con oltre 30 vittime missili russi sull'ospedale dei bambini orrore a Kiev vi dicevo queste sono le due notizie che dominano un po' tutte le prime pagine di questa mattina dal Corriere andiamo infatti su Repubblica qui l'apertura è proprio sulla strage in Ucraina missili sui bambini violento attacco lanciato dall'esercito russo contro le città a Kiev distrutto l'ospedale pediatrico che ospitava i piccoli la Russia nega ma un video conferma bilancio di 36 vittime 137 feriti l'Occidente parla di crimine disumano intanto Orban va da Xi in Cina Putin sa come vincere la guerra gli Stati Uniti rispondono visita sbagliata e c'è la foto di una terribile di uno dei bambini colpiti dall'attacco appunto con le bombe sull'ospedale pediatrico a Kiev questa è la Repubblica andiamo a vedere la stampa di Torino Putin messaggio all'Europa mentre Orban tratta col Kremlin e nasce il gruppo dei patrioti filorusso Mosca bombarda l'ospedale infantile di Kiev 36 morti a centropagina la Francia Macron il piano anti-Mélechon il presidente conferma tempo a Tal e punta a una coalizione senza l'estrema sinistra e c'è un'ipotesi Holland questa era la stampa proseguiamo con il fatto quotidiano anche qui la Francia in evidenza Macron prova a fare il furbo la sinistra per ora non ci casca il presidente di Mezzato cerca di salvarsi ribaltando le urne in ciuccio al centro per segare Melenchon l'Eliseo vuole socialisti e gollisti e insomma c'è una situazione di caos al momento con una situazione diciamo in evoluzione proprio in queste ore sul Libero c'è un'apertura diversa il clan del Marsigliero o meglio una chiave di lettura diversa credono di aver vinto loro sinistra in estasi per il voto in Francia la Salis dice sollevazione popolare Elislein possiamo farcela anche noi Bonelli dei Verri adesso uniamoci insomma Libero mette insieme i commenti della sinistra italiana sul voto francese il messaggero di Roma Francia la sinistra si divide Macron respinge le dimissioni di Attali i modernati del fronte si smarcano da Melenchon Le Penne e Salvini con i patrioti di Orban terzo gruppo a Strasburgo Vannacci vice di Bardella e poi qui sotto la testata strage a Kiev missili russi sull'ospedale dei bambini l'abbiamo visto c'è poi una vicenda di cronaca che arriva da Ponza una sedicenne denuncia per stupro il vicino di casa lui un cameriere romano era stato appena licenziato per aver importunato alcune clienti dal messaggero al manifesto bisogna saper vincere il titolo più che un'elezione una sbornia capovolto a ogni previsione fermata alla destra le penista e dato la vittoria al fronte popolare la Francia progressista festeggia a Place de la République e si sveglia con un dopo voto complicato adesso tocca provare a governare questa è l'analisi del manifesto sul voto in Francia quotidiano dei vescovi avvenire titolo alla Francia in stallo Macron prende tempo e congela a talli ipotesi di governo con sinistra moderata e centristi in Europa cresce il fronte dei patrioti insomma il risvolto è quello che sta accadendo al Parlamento Europeo appena rieletto sul secolo d'Italia il giornale della destra grosso guaio a Parigi rebus ingovernabilità è questo il titolo dell'editoriale che come di consueto occupa quasi tutta la prima pagina e poi andiamo invece a vedere le notizie economiche sul sole 24 ore il labirinto di transizione 5.0 servono otto documenti per il credito d'imposta nel testo all'esame della Corte dei Conti una lunga serie di procedure la grande foto riguarda il gruppo De Agostini più poteri alla quarta generazione con questa grande foto di famiglia andiamo allo sport con la Gazzetta in apertura si parla del Milan caccia al centro avanti il 9 è Morata l'apertura di Alvaro a Madrid non sono felice offerti tre anni di contratto Ibra sicuro Teoresta Fonseca dice bel gioco e trofei accanto i grandi successi del tennis italiano erba di casa nostra storica Italia Wimbledon con Musetti in tre nei quarti oggi gioca la Paolini e poi c'è anche Capitan Sinner queste le notizie sportive sulla Gazzetta dello Sport con queste notizie si chiude la segna stampa di Telemolise io vi ringrazio per averci seguiti vi auguro una buona giornata vi ricordo il nostro TG alle 14 a più tardi e hill diversi diversi じゃあ ti vi ricordi ti vi ricordi gi å i l lo